Abbiamo ottenuto un risultato favorevole, positivo e siamo strafelici. Il provvedimento sostanzialmente mascherina, tampone rapido e via. Abbiamo trattato tutti i punti che noi ci interessavano, il giudice ora valuteremo bene le motivazioni ed è chiaro che come abbiamo più e più volte detto c'è stata una lesione di diritti da tutti i punti di vista e per questo siamo contenti. Siamo contenti anche che il signor Messina dopo questi giorni difficoltosi ritorni a casa e devo dire che io facendo parte dell'Eretico e dell'MV sono abituata a trattare casi di lesioni di diritti di qualsivoglia natura. Voglio sottolineare comunque come mi è stato detto su più fronti che non era una battaglia per i Novax. Io non sono una Novax, sono vaccinata, quattro giorni fa ho fatto la terza dose e non è assolutamente una battaglia contro i Novax, ma è semplicemente una battaglia per la tutela e le lesioni di diritto di circolazione. Abbiamo posto l'accento anche sul fatto che il popolo siciliano non deve essere trattato differentemente. L'Italia è una dal Trentino all'ampedusa. Esattamente, è paradossale che il signor Messina era libero di circolare in tutta l'Italia ma non di poter ritornare nella propria città. D'altronde, come ho sottolineato più volte, l'unico modo per arrivare dall'altro lato è il traghetto. Correttissima la norma, tutto quello che vogliamo, ma era chiaro che dovevano tener conto di una deroga. Infatti noi nel ricorso abbiamo valutato anche la possibilità, si può rimanere anche dentro la propria macchina, sicuramente senza scendere se uno non ha il green pass. Così voleva fare il suo assistito, peraltro? Assolutamente. Ora, oltretutto, il mio assistito ci teneva moltissimo che questa fosse una scelta consapevole, giusta e proveniente da un tribunale. Tant'è vero che non ha voluto neanche che intervenisse nessuno, né che venisse usato qualsiasi escamotage, come ad esempio una visita medica. Ha detto già che il suo assistito non ha voglia di parlare, ma ci può almeno trasferire i suoi sentimenti in questo momento. Il signor Messina è felicissimo, contentissimo del risultato, chiaramente non vuole più rilasciare dichiarazioni perché è estremato dopo questi giorni difficoltosi. Perché è chiaro, ospitalità, macchine e quant'altro, perché non avendo il super green pass certamente non poteva neanche andare in albergo. Quindi era proprio bloccato. Una curiosità tecnica per finire, vi attendete impugnazioni? Assolutamente non credo.